Il signor Azix si è dimenticato la torta comunque Sto farò giocare? No Sto laggando Stai laggando? Yes Nice È una legione È una legione? Sì è una legione Beh ce l'ho dietro io Ah è alleanza repressa? Sì sì grazie Vabbè non ha rispettato il pallet Ok È che volevo fare una chase build ma mi ignorerà fortissimo Che pallet Non mi va proprio di giocare contro Ma basta che state sopra e sotto Cioè ci si divide sopra e sotto E non puoi fare un cacchio Niente mi ha preso lo stesso Che fa Call of Brian? Te l'ho detto l'altra volta Wappone Fa regredire più velocemente il gen Che due game sai Tanto non è bello averlo visto che la gente esce Sì ma come dico sempre Il 100 Poco e niente significa Sono Perché tanto un 100 Ti bastano 800 ore Sto tornando da me mi sa È sopra o sotto? Non capisco È sotto Mita Ah ma era il quarto hit? Sì sì Ah io ero bello chill qua che aspettavo E non farmi sì sì Cartino la testa Noi ci curiamo ma non so se serve C'ha le pillole ninna nanna allora probabilmente Perché gli è durato un fottio Grande Cheryl che c'ha Vado di giro per figurare Si sta andando da quello sotto che sta facendo il gen Io ero bello chill pensavo di essere vedo tranquillo Tipo il secondo No non c'è nessuno per il momento Sto avvicinando io Sento il No non sento più il battito Dovrebbe essere il retro tunnel teoricamente Little Jayjohn No Ora che ha più scoperto Una zizzera sì Che panno Questa mappa è devastante Riesci a prenderlo? Oh oh Attenzione lì a Jayjohn Ma su chi è che è? Su di te Azix Eh niente no no Dai Eh ma tanto ci avrà le pillole Quindi continuerà a seguirti per ore Ah l'ha rotto invece? Ok Sì l'ha rotto Dobbiamo iniziare a fare qualche jump Perché sono troppo indietro Quello che aumenta di 10 secondi La duragua si è fatta Però va alla velocità normale Esatto Ok cerco di riprendere quel jump Che è da due ore che sto cercando di fare Quando gioco dico io che non è bravo da solo Intanto giocano Ma infatti Dovete farvi mettere troppo dal Dal livello di un play Dal livello del Del serve Io ve lo dico sempre raga Io sono al piano di sotto dove prima abbiamo incontrato Il killer Tutti e tre Franklin e viene il bello Franklin Ciao Garni Buonasera caro benvenuto Buonasera Tanela Eh sì Tanela Ma non ti conveniva Ti conveniva farlo quel gen What the fuck No ma perché così lo vedete anche voi Eh però ti conveniva farlo E da me il killer Ho predroppato e basta Mi ha mollato Mi ha ripreso Mi ha fregato Nice Non riuscivo a vedere dove stava Perché non mi ha accaccato lì? Probabilmente se hai fatto un body Mi potrei salvare No non è vero Eh sì no Ho visto Lo dico non so se ti ricordi No perdonami Non mi ricordo completamente Mi è venuto comunque caro Dovevo talmente tanto da killer Che Trovo solo killer forte ci provo E vede il 190 Tanto un po' mi fa pensare Che sanno giocare Non è detto Non c'entra La skill è diversa Dalle ore anche C'è Monster Shrine By the way Quindi mi dovete venire A salvare in fretta Perché è lontano Arriva 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 Sì sì no perché Scende solo veloce Ma mi ha anche lasciato Eh sì Stai trovando l'abilità Sì vado a prendermi un attimo Il medikit Che ho l'insta heal Al tanto voglio che lo può A sto punto Va bene Dov'è che se era? Era sotto Era sotto Ciao Legend Buonasera caro Benvenuto Ok dietro a Essex Non cleansatevi mai Per quando Quando c'è In potere però Sai che sta sopra adesso E infatti Arriva da noi Non so dov'è ma È qua da me Sei al Ter No uno due Sei al terzo tu Quindi vabbè Ecco io al quarto Ottimo E niente Ah no era al quarto Non vi cleansate mai raga Cacchio Dovete aspettare Censare poi vabbè Avete capito Di bloccare anche il gen Maledetto di un Essex Dura tipo 40 secondi Il blocco tra l'altro Quindi Ganni grazie mille Dell'abbonamento Gentilissimo caro Cioè considerate Che se non vi Mendavate entrambi Non poteva uccidere nessuno È fuori Che tu sappia O è dentro Ma da dentro Ho visto che andava da dentro Oh cazzo Ecco da me Eh dove stava facendo il gen Ah ok ho preso Essex Eh cerco di finire sto gen Almeno Sono al 99 Dove è atterrato Essex Dovrebbe esserci un altro gen Abbastanza messo bene Che ha calciato Conta che se non lo bloccavi Quel gen L'avremmo potuto chiudere adesso Anzi L'avresti chiuso Ma l'ho bloccato Solo quando tu L'avresti chiuso Quello sicuramente lo campererà Eh sì È sopra di me Al momento no In realtà Non è da me Lo sento Ma non lo vedo È stato davanti a me È davanti No Sono andato alla mia sinistra Se ne sta andando via Ok Eccolo Siamo anche tutti vicini Attenti Siete sopra voi Allora Non c'è neanche le palle E niente Vai E mi allontano e basta Non mi ha dato No no va bene Eri sopra o sotto Bacto Sotto 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 il gen Che stava facendo Ok viene da me allora Lo vedo Cerco di holdare Doppia vulpi possibile Mi ha mollato Potrebbe non arrivare A qualcun altro Non sembra che stia tornando Al gen Per ora Io sono sul gen Sì sarebbero anche Ti ho visto Eh i adrenalini per caso No però ci passo Vorrei finire ancora Qualche missione Va bene tranquillo Legend Il nostro anche da pad E' super forte Perché è uno dei migliori Per pad Con il west car Probabile no Ehm Non credo in realtà Con le pillole Non mi sembra Che si giochi troppo Viene da noi Attenta Buck Non mi chiedere dove Ma viene da noi Ah cazzo Sono morto Sono al quarto Dove sei? Ehm Cerco di allontanarmi Il più possibile Ma è straveloce Prima di fare un body Eh ma è troppo veloce Spero di beccare Gli altri ma No No Levati Maledetto Drogoto Dovevi bloccare L'elite Drogato Prima che prendesse me Se prendo l'alto Qual è che avete aperto? L'ho acciacato Quella La parte posta Dove aveva atterrato Uuuu C'è hit Ciao C'è caduto di Fenty Perché hai droppato quel pallet? Perché io volevo curarlo Ma è lo stesso Stiamo per perdere Mi stai dicendo? Sluggerà Eh sì Non riesco Slug, slug, slug Non ho niente Non ho un breakable Non ho niente Quanto sei di fura? Non è neanche questa Gate aperta Vero? No, no, no Madonna Non era The Dard Era il 3% Va dritto Ok, io ho fatto quello che potevo fare Ma se muoio Il mio lavoro è stato fatto Io ne sono andata con Con agilità Mi ha perso Comunque è aperta la cassa Vabbè Nulla Sto provando ad andare alla porta io raga Sappiatelo Pure io E penso che uscirò Appena ci arrivo Proprio a fottesega Mi sa che è al centro Lai, vero? Dov'è? Penso che si allestano fuori Dietro è Esix Ah sì, è davanti alla porta Per me è impossibile uscire Sto provando ad andare all'altra Però Prova ad andare all'altra Che io vedo questa Qua ancora Dimmi se se ne va Sto campionando Non so se faccio in tempo Con determina No, no, no Sta camperando Ok, sto prendendo di qua Puoi provare a venire Se vuoi Apri, apri, apri Apri e esci Magari Ricerco la botta Ma intanto puoi stare da sopra qua Se sei sopra Eh, sto controllando lui Eh, vieni, vieni, vieni qua Vieni qua Non so Se ce la faccio, sai? Sì, ho avuto tenacia Tramite il perk nuovo Legend esattamente Non penso di sci No No Dove sei? Dove sei? Eh, è sopra C'è il buco Se esci entrare nel buco Ce la fai Dove c'è il gen Arrivando Burirò la porta Let's go Easy Uh, quanto è broken Made for this Oltre il 3% di endurance Sì è broken Cioè è Non ha senso È uno di quei perk Veramente rotto C'ha C'ha letteralmente Carriato tutti L'uscita qua Sì, aveva pillole 0-3 di me In speed Made for this Penso che sia Uno di quei perk Che non dovrebbero esistere Se posso essere onesto